E le 20 e 55 minuti ci colleghiamo adesso con la sede dell'ente carnevalesca di Fano dove vedo tra l'altro Simona Zonghetti con questo splendido abito che si addice molto all'atmosfera carnevalesca insomma. Buonasera a te e ai tuoi ospiti. Buonasera Marco siamo pronti per la seconda estrazione. Buonasera a tutti per quanto riguarda il tesseramento perché sono già centinaia le persone che hanno deciso di diventare appunto soci. Ad oggi quanti sono? Buonasera a tutti abbiamo già superato i 750 soci per la prima volta nella storia dell'ente carnevalesca in poco più di 20 giorni ecco abbiamo superato appunto i 750 soci. E non mancano le novità ne annunceremo ancora questa sera. Sempre abbinata la nostra tessera, tessera fortuna, la tessera del carnevale appunto abbineremo altre sorprese per tutti voi. Va bene cominciamo subito. Abbiamo ovviamente il notaio che seguirà tutta l'estrazione. Chiedo appunto di venire qua a fianco a me. Possiamo cominciare? Prego. Eccole qua che girano. Adesso Nino sa per estrarre la prima palla. Il nostro notaio la aprirà e andremo a leggere il primo numero. Il numero due. Quindi il numero che rappresenta la centinaia è il numero due. Proseguiamo con la seconda che è quella delle decine. Un po' qua Alberto che ha appena preso questa palla. Il numero che rappresenta le decine è il numero cinque. Perfetto. Quindi siamo due e cinque. Passiamo all'ultima. Eccola qua. Con il vice presidente dell'ente carnivalesca. Il numero che rappresenta le unità ovviamente è il numero uno. Bene. Adesso chiederei appunto di avvicinarli così mostriamo bene anche a casa il numero due, cinque e uno. Ed è appunto il numero che va associato ad un fortunato socio. Andiamo a scoprire chi è. Ce l'abbiamo già pronto? E' già pronto. E qua il secondo fortunato. Innanzitutto ringrazio ancora una volta il notaio Colangeli che è sempre ormai diventato il nostro collaboratore qua dell'ente carnivalesca. Abbinato alla tessera 251 è il socio Pazzaglia Danino. Pazzaglia Danino di Fano. Allora chiudiamo qui questo collegamento con un brindisi. Buon Natale a tutti. Grazie a voi la linea. Bene grazie. Il giornale è finito e non mi resta altro che augurare a tutti voi il più cordiale augurio di un buon anno. Visto che domani sera alle 20.30 trasmetteremo il discorso del presidente della Repubblica Mattarella. Subito dopo i fatti del 2015. Fatti di casa nostra. Grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.